Siamo all'arrivo, la grande conclusione, l'applauso per il numero uno di oggi, l'atleta del pedale Ossolano, la bella vittoria per Samuele Rubino, l'atleta del pedale Ossolano, vediamo la piazza l'onore, l'applauso per il portacolori della Valdivasi, Officine Alberti, Veronese, Samuele Carpene, mentre siamo alla terza posizione, va a completare il podio, terzo posto per Martin Marcellusi della Tupia Ruota, uccide Salignano, l'atleta Umbro, l'applauso per il numero uno di oggi, brillante vincitore, al disello, Samuele Rubino, l'atleta del pedale Ossolano Samuele Rubino oggi ha fatto la differenza sul Ghisallo, una splendida vittoria per distacco raccontaci gli ultimi chilometri di questa splendida gara Gli ultimi chilometri sono stati abbastanza duri, tutti in salita, con Carpene che ha fatto il ritmo in salita e prima degli ultimi due chilometri siamo rimasti in quattro, dopo siamo rimasti io e Carpene e subito dopo la salita, verso l'ultimo chilometro, ho dato tutto, ho provato l'attacco e è andata benissimo, sono arrivato da solo e penso è andata benissimo Per te è una stagione in doppia cifra, 12 vittorie, qual è il tuo bilancio personale? Io sono abbastanza soddisfatto di questa stagione, è una stagione meglio dell'altra e quindi sono contento, bella stagione E la splendida vittoria di oggi è una dedica per chi? Per la squadra e per la mia ragazza Per la squadra e per la mia ragazza